I 5 Stelle sono stati, diciamo così, inattivi sulla politica e sono cresciuti sugli errori degli altri, sugli errori della politica. Non è che hanno lanciato, se uno dovesse scegliere e dire i 5 Stelle hanno un progetto sociale di questo genere, io sono un comunista, sapete cosa voglio, lì non si sa cosa voglio. Il reddito di cittadinanza per esempio è una norma democristiana, sostanzialmente, non è una norma di sinistra, io voglio il lavoro, voglio il salario da lavoro, non il reddito di cittadinanza, perché io guadagno 500 euro al mese e poi faccio il lavoro in nero, questo è il reddito di cittadinanza, quindi non è così tanto di sinistra. Però detto questo, il 5 Stelle è cresciuto sulle difficoltà, sulle miserie della politica altrui. Adesso hanno avuto un consenso tra l'altro straordinario. A Roma non ne parliamo. A Roma specialmente, e quindi Roma diventa l'ago della bilancia. Aggiungo di più, tutta questa dinamica sulla politica, sul fatto che la politica, obiettivamente, è stata misera in questi anni, e sul fatto che l'economia ha governato la politica, l'ha schiacciata, ha fatto sì che passasse come messaggio tra la gente, che se eri uno che sapeva farlo, Malin, che conosco da anni, è uno che conosce la vicenda del Senato, della Camera, è un ottimo parlamentare, non condivido nulla delle sue idee, o tutta un'altra, però non posso dire che è un cretino. Possiamo dire che è competente. Bravo, siamo arrivati al duque, è un uomo competente, è un uomo capace. Alla politica è stata segnata questa cosa qua, sei competente, sei capace, sei pericoloso. Quindi se tu sei incompetente, incapace, è quasi una marca che ti consente, consente al popolo di dire quello lì va bene. E i 5 Stelle hanno preso i voti con questo. Però quando sei incompetente e incapace, non solo, si dice siamo contro i poteri forti, ma i poteri forti che ci sono, si chiamano Fondo Monetario Internazionale, si chiamano Unione Europea, si chiamano Banca Centrale Europea, il nostro amico di Palazzo Chigi non sarà d'accordo, ma è la conseguenzialità del potere vero, che non risiede a Palazzo Chigi, ma risiede in quei posti lì, beh, devi essere un po' fortino, devi saperne un po' di politica. Quindi il potere forte è più aiutato se un deputato viene estratto a sorte, che invece se c'è uno che conosce la politica. Allora, fermo, fermo a Marco Rizzi, insomma, abbiamo capito. Non parliamo di dati, ma parliamo della realtà. Tutti i prodotti che ci circondano, dagli occhiali di Malano, alle nostre scarpe, alle automobili che sono fuori, ai cellulari, vengono prodotti in meno tempo. L'innovazione, la scienza, la sanità vanno avanti? Sì. Come mai siamo tutti peggio? C'è la concentrazione, noi potremmo lavorare di meno, tutti, potremmo stare tutti meglio, perché stiamo tutti peggio? Perché c'è una concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochissimi, ma non pochissimi, nel senso che è il nostro vicino che ha comprato, l'invidia, ha comprato l'automobile, stiamo parlando di cifre enormi. Noi abbiamo la Apple, che non fa decrittare all'FBI i suoi telefonini, quindi vuol dire che la Apple è più forte dell'FBI. Vent'anni fa era una cosa che non si poteva neanche pensare. Oggi, lo vedete, insomma, il nostro amico Renzi, amico suo, non mio, cosa fa? Io non ce l'ho mai con le persone, va a spiegare la politica estera, la politica economica e dice e vedremo, stiamo in attesa di Bruxelles, siamo in attesa... E' lì che si comanda. Ci sono 62 persone al mondo che detengono la ricchezza di 3 miliardi e mezzo di persone, cioè della metà della popolazione del mondo. Sono quelli che sono più forti, degli stati. E quindi, tu dicevi prima, cosa servirebbe? Ma voi pensate che un governo... Allora, ipotizziamo, governo è non potere, il potere è un'altra cosa. Se il governo Varizzo ha dei margini così bloccati, il patto di stabilità, il pareggio di bilancio in Costituzione, l'Unione Europea ti ha così ingabbiato che per quanto puoi spostare delle virgole, ma la sostanza resta, bisogna cambiare il modello di sistema. Quando tu dicevi, per i giovani, 40% di disoccupazione, se lavori bene arrivi al 29%, se lavori male arrivi al 31%, ma c'è una disoccupazione mostrua. Questi ragazzi non hanno un futuro. Il futuro lo puoi avere solo con uno, lo dico, tu dicevi uno shock. Si chiama rivoluzione, si chiama cambiamento, cambiamento radicale di sistema. Una volta si diceva anche con un diverso modello di sviluppo. Sì, ma quella era la vita di Anna Socialismo, ma ha portato da Gramsci, da Gramsci, no, ci ha fatto arrivare Renzi. Allora, voglio andare e voglio farvi vedere. L'Europa, se è un continente che deve andare verso l'integrazione economica, si deve mettere d'accordo su cosa si tassa di un'azienda. Indipendentemente da dove hai la sede e dove vendi, tu hai 100 che è la base imponibile e poi ogni Stato ci mette la sua liquida. Il problema vero qual è? Qual è? Che non ci siamo messi d'accordo su qual è l'aggregato di base imponibile da tassare da lì che salta fuori prima di Apple. È. Ok? Perché l'Europa non si mette d'accordo neanche su quello. Non c'è un'armonizzazione fiscale, non so come che va. Sì, ripeto, sulla base imponibile e non sulle liquide. Io penso che sia giusto che un governo possa decidere, io lo tasso l'1%, io il 10% o il 10%. Però sui cosiddetti diritti l'Europa si è messa d'accordo al ribasso con la direttiva Bolkestein, invece di scegliere i paesi dove hanno i diritti più alti, che ne so Germania, Italia, Francia, hanno scelto i paesi più bassi. Cioè l'Europa si armonizza laddove fotti i lavoratori e il popolo. E invece non trova delle regole laddove potrebbe colpire le multinazionali. L'hai detto in maniera elegante, ma è questo. Allora, per un flash, a proposito della questione banche... Beh, quello che sta accadendo nelle banche, da un punto di vista, diciamo, generale, è che assistiamo alla proletarizzazione del ceto medio. Chi è che investiva in azioni e obbligazioni? È difficile pensare, il Ruscun della Fiat, l'Operaio, il Barachin, investe. È il ceto medio italiano, che viene fregato. Infatti lo vediamo anche nelle quote che vengono riservate alle restituzioni. Si proletarizza il ceto medio. E questo sta accadendo. E le banche sono uno, diciamo così, di quei tritacarne in cui il ceto medio passa. La proletarizzazione vuol dire che il popolo diventa il 90%. L'Italia prima era divisa da lavoro dipendente, lavoratori e ceto medio, piccola borghesia. Però questo, seguendo il filo del ragionamento di un attorizzo, questo però alla politica comunque non conviene. A qualcuno converrà, ma non alla politica. Beh, la politica... Il ceto medio ci sono tante politiche. Eh, sì, certo che ci sono tante politiche. Converrebbe alla rivoluzione, nel senso che il popolo ha l'ansistità. E per questo dicevo le cose che possono apparire fuori tempo. Detto questo, poi c'è un meccanismo più importante, è che le banche... Sentivamo qua l'amico Marazzini che diceva... Ma non esiste il capitalismo buono. Cioè non c'è un... Il capitalismo è basato... Non esiste quello buono o quello cattivo. Il capitalismo è basato sul fare profitto. E lo fai come puoi il profitto. Lo puoi fare in tempi di vacche grasse in un certo modo. Adesso le vacche magre ci sono perché c'è la concentrazione del capitale nelle mani di pochi. E quindi, come diceva Bertolt Brecht, alla fine è più ladro chi fonda una banca di chi la sfonda. Questo è il meccanismo. Marazzini, credo che sia sul crinale opposto. Beh, certo, perché è del PD. Non sarebbe del PD se non dicesse questo. Contesto il fatto...